La cerignola dello sport ha vissuto una pagina storica. Poche ore fa la Iposea Udas ha conquistato l'accesso per la promozione al campionato nazionale B2 di pallavolo maschile. I ragazzi di Roberto Ferraro hanno vinto con il punteggio di 3-1 in finale contro l'Asem Bari. Per festeggiare deniamente questo importante risultato vi abbiamo preparato uno speciale riproponendo tutti i servizi dei playoff fino naturalmente alla naturale conclusione arrivata poche ore fa in terra a Bari.